L'associazione Lazium Betus denuncia un nuovo gravissimo episodio legato alla chiusura del borgo di Prateca di Mare. La Nova Lavinium e il comune di Pomezia, si legge nella nota, non hanno dato attuazione all'ordinanza cautelare emessa dall'altarra il 20 luglio scorso in merito all'obbligo di rimozione del cancello che da quattro anni sbarra l'accesso al borgo. In questo modo si aggrava la posizione dell'amministrazione che sta deliberatamente disattendendo la legge. L'ordinanza del tribunale è immediatamente efficace, pertanto il comune avrebbe dovuto dare esecuzione a quanto disposto dai giudici. Per questo motivo abbiamo provveduto ad inoltrare una diffida al sindaco Adriano Zuccalà, al dirigente all'urbanistica e alla polizia locale, palesemente inadempienti, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito. Tale vicenda dà adito però ad un pesantissimo ed inquietante interrogativo. A Pomezia la legge vale ancora? si chiedono in conclusione i rappresentanti di Lazium Betus.